Auto, 102 anni faccia, d'età. Come li porti? Li porta bene i suoi quasi 102 anni, signor Alfredo Pulcini, se non fosse, per qualche problema alla schiena. Ha fatto la Seconda Guerra Mondiale, poi dopo l'8 settembre, è stato arrestato dai tedeschi ed è portato in Polonia. Che cosa ricordi della guerra? Beh, sarei troppo spangimento di sangue. Oggi il prefetto di Ascoli, in occasione del 2 giugno, gli ha consegnato la medaglia d'onore conferita dal Presidente della Repubblica per commemorare cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti. Lei aveva votato per la monarchia o la Repubblica? Hai votato per la Repubblica, così ci hai sempre raccontato, no? Sì, sì. E certo, non poteva votare per la monarchia. Con Pulcini sono stati premiati i figli e i nipoti di altri tre militari italiani della Scolano che hanno combattuto nella Seconda Guerra Mondiale e sono stati deportati nei campi di concentramento nazisti. Io non ho mai conosciuto mio nonno, però mio padre mi ha raccontato molto di lui. Mi ha raccontato quando è stato catturato dai tedeschi ed è stato esportato nel campo di Auschwitz. Se non fosse tornato vivo mio padre non sarebbe nato e di conseguenza nemmeno io. Quindi mi ritengo molto fortunato e sono anche molto fiero di mio nonno. La consegna delle medaglie d'onore è stato un momento importante per Ascoli che ha pagato un tributo altissimo alla Seconda Guerra Mondiale ed è città, medaglia d'oro al valore militare per attività partigiane. Ma questo è un 2 giugno particolare per la Repubblica Italiana che prova a uscire dalla pandemia, cerca di ritrovare una nuova normalità senza dimenticare il percorso fatto negli ultimi 75 anni. Abbiamo appena consegnato un'onoreficenza a una persona di 102 anni che da sola si è meritata un applauso da parte di tutti e il ricordo di queste cose non ci deve abbandonare perché ricordare significa anche prevenire.